C'eravamo solamente io e te, e ora resto solo io, un ricordo che passa in un attimo, un respiro nascosto da un battito. Ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi per il nostro approfondimento in studio parleremo di musica. Di musica e di un giovane talento fanese che sin dai primi anni della sua vita ha dimostrato un attaccamento alla musica. A sette anni ha incominciato a suonare il pianoforte e a quattordici anni seguendo la sua scuola di canto e scrivendo anche i testi e le melodie delle sue canzoni. Oggi abbiamo in ospite in studio Andrea Cellottini in arte Andres. Ben arrivato Andres. Buongiorno Esther, grazie a tutti dell'invito. Sono molto contento di essere qui, di essere tornato qui. Come stai? Perché so che è un periodo molto intenso per te. Manca davvero poco perché il 15 febbraio presenterai dal vivo il tuo primo disco di inediti. Esattamente, come hai detto tu il 15 febbraio, dopo sarà un vero, il mio primo vero concerto tutto dal vivo. Sarà possibile appunto ascoltare il disco in anteprima e alla mezzanotte, quindi il 16 febbraio, uscirà ovunque il disco. Prima di parlare del tuo nuovo disco direi di fare un passo indietro. Anche per chi ci sta seguendo, chi è Andres? Perché questo nome, questo nome d'arte? Allora Andres è un ragazzo semplicissimo, un ragazzo molto umile, una persona molto semplice, che tra i vari problemi, come tutti quanti, della propria infanzia, cerca uno sfogo, cerca libertà in una passione. C'è chi la sua passione la trova in una palestra, chi la trova nella box e io l'ho trovata nella musica. Grazie anche a tua mamma. Grazie alla mia mamma, sì. Ti faceva ascoltare canzoni. Mia mamma era fissatissima con Eros Ramazzotti e io mi sono innamorato a sua volta di Eros Ramazzotti e così è nata la mia passione per il pianoforte. Ero un grande ammiratore del Luca Scarpa, il famoso pianista di Ramazzotti e da lì è nata un po' la mia passione. È stata la mia forza, diciamo, nei momenti più bui, quando no, si rimane un pochino da soli. Quindi la musica è stata la compagna, quindi ho detto, la vedevo come un metodo di sfogo, la vedevo. Il potere salvifico della musica. Il potere, è vero, è vero, non è una cosa, una cavolata, ma è proprio la verità. La musica salva le persone, dobbiamo le dimostrazioni e salvano i stessi, perché comunque sia è un metodo, un approccio in un mondo parallelo, dico sempre, perché lì gioca tutta la fantasia, quindi impari a conoscere te stesso col tempo. E infatti nei tuoi testi c'è tanta emozione. Sì, tanta emozione, sono molto autobiografico, mi piace, autobiografico ma anche una persona immaginifica, mi piace immaginare molto quello che ho intorno. Un po' come le città invisibili di Italo Calvino. Eh, esatto. Anche tu hai una tua città immaginaria? Eh, ne ho tante, ne ho tante, ne ho tante. Però mi piace molto immaginarle le cose quando, se una cosa non ce l'ho, provo a crearla con la mia fantasia e cerco di buttarla in una canzone. Come nasce una canzone per Andres? Sicuramente nasce in un momento no. È difficile che riesca a scrivere bene in un momento felice, perché io nei momenti felici sono una persona che se li vuole vivere, i momenti felici. È troppo breve, no? Io dico, il momento felice è un momento che dura troppo poco per non viverlo a pieno. Quindi io non mi posso far distrarre dalle cose tristi. Quando il momento felice finisce come è un giro, no, la vita, quindi arrivano i momenti un pochino bui. Allora in quel momento trovo spunto dalla vecchia felicità che avevo conservato e provo a scrivere con il mio pianoforte, come sempre. Mi accompagno con il pianoforte, maggiormente nelle giornate di pioggia, perché... Esatto, perché c'è questa tua caratteristica che ami scrivere durante le giornate di pioggia. Io amo scrivere durante le giornate di pioggia. Durante le giornate di pioggia sono quella persona, no, un po' svalvolata, che prende e va a camminare lungo il mare quando piove. Io cammino anche per ore e cerco spunti e la maggior parte delle volte riesco a scrivere canzoni definitive durante i giorni di pioggia. Scrivi canzoni tristi, ma sei una persona triste? No, no, sono una persona triste, non sono pezzi tristi, sono una persona che riflette. Sono una persona sincera, una persona che ama vedere la realtà. Se una realtà è leggermente, non è vero che è bella, io ammetto che non è bella. Cerco di arrivare nella condizione che stanno un pochino tutti, i ragazzi, ma anche tutte le persone in generale. Che tutti noi abbiamo, comunque sia, dei momenti infelici che non mostriamo. Io invece la mostro questa parte un pochino più fragile di me, perché non penso che sia una cosa da nascondere. Il non essere felice è una cosa normale, è una cosa che tutti noi abbiamo. Ci sono canzoni che ti fanno provare l'emozione opposta, quindi tu magari sei triste e una canzone ti fa vivere, ti porta vita, ti porta felicità. Invece io cerco di mettermi nello stesso livello, quindi io vengo nella condizione in cui stai tu e ti faccio capire che siamo allo stesso livello, quindi siamo nella stessa emozione. Quindi un gioco di empatia musicale. Io sono molto empatico, si, guardo molto l'empatia, cerco di esprimerla molto attraverso anche la musica. Io ho una ricerca musicale molto particolare, cerco di spaziare, cerco di provare a capire quale strumento realmente possa emozionare una persona, più che formi un contesto, formi comunque. Te Andres, hai 21 anni. Sì. Che messaggio vuoi dare ai giovani di oggi? Di amare prima di tutto se stessi, perché io non ero capace. Prima della scrittura di questo disco io non ero capace. Ero sempre in difetto, ero molto autocritico, ma poi ho capito che alla fine la strada parte tutta da noi. Cioè noi impariamo ad accettare noi stessi e ad amarci, e a dire che alla fine anche noi abbiamo un posto nel mondo, anche noi abbiamo un ruolo, siamo tutti nati per fare un qualcosa, per dare un qualcosa in più. E quando tutti riescono a trovare in se stessi questo ruolo, allora puoi andare avanti, come si dice, tirando fuori le unghie. Cioè allora diventi veramente importante per te stesso, questo vale più di tutto. Un bellissimo messaggio. Sì, sì, vale molto, vale. Una curiosità che mi ha colpito, oltre che scrivi i tuoi testi, le tue canzoni durante giornate di pioggia, ma che ti ha noti ora e data della scrittura dei tuoi testi. Raccontaci perché è una cosa... È vero, è vero, questa è una mia fissazione proprio generale. Io ho questa mania di ricordarmi il momento esatto in cui io scrivo una canzone, perché quando, dopo qualche mese comunque sia, il disco verrà consegnato a una sala di incisioni, arriverà il lavoro grande dietro, quindi di produrre questo disco, che generalmente sono solo bozze con voce pianoforte. Mi piace però tornare a quel momento, ricordarmi che io ho scritto che la canzone per questo motivo, l'ho scritto a questa ora, che maggiormente sono tutte ore di notte, di giorno che sono. Della serie La notte porta consiglio e ispirazione. Esatto, io non normo, ma scrivo, quindi sì, sì, io sono capace anche di alzarmi alle tre di mattina e cominciare a suonare come un pazzo. I miei vicini saranno contenti di questo. Però mi piace ricordarmi la data e il motivo per cui ho scritto questa cosa, perché magari dopo, sai, viviamo in un tempo in cui tutto è di fretta, tutto è di fretta, nessuna più voglia di ascoltare nulla. Io però ho ancora voglia di ascoltare me stesso, ho ancora voglia di capire per chi io faccio certe cose. E questo si evince nelle tue canzoni. Sì, sì, sì. Il 15 dicembre 2020 esce il tuo primo singolo. Il 15 febbraio 2024 l'uscita del tuo disco. Che rapporto hai con la numerologia? E se questo 15 torna nella tua vita c'è un significato? Allora io quando feci uscire il primo vero singolo si chiamava voglio viverla così, ricordo ancora abbiamo fatto il video al Levante di Fano con un pianoforte, bellissimo, un video semplice però è di impatto. E ancora io mi definisco nel, no, io sono ancora in salita, ancora di strada ne ho tanta da fare, però in questo punto di questa salita riesco a guardarmi indietro e vedere che già dei passi insomma li ho fatti. Cioè sto camminando, a volte mi sembra di restare fermo e invece sto andando avanti. E per il discorso della numerologia io sono uno molto credente in queste cose, credo molto nel destino, credo molto nel, non credo nel caso, io credo che ci sia un motivo perché le cose accadono. E questo ad esempio era una cosa assolutamente non voluta che però è tornata da sé, questo 15. Io inizialmente neanche si era dato troppo, no, troppa importanza a questa cosa, invece è tornata, quindi dai. Fatalista e scaramantico. Molto, 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 scaramantico tantissimo. Come ti dicevo anche prima, io sono capace di fare ritardi di ore, i miei amici miei proprio lo sanno bene, perché se mi attraverso un gatto nero io assolutamente non passo per quella strada, piuttosto faccio tutto il giro della città, evito qualsiasi cosa, sì, sono molto, molto scaramantico. E sicuramente ne avrei preparato un gesto scaramantico per la salita sul palco il 15 febbraio. Ne ho tantissimi, ne ho tantissimi. Bene. Ne ho tantissimi. Molte volte prima di salire con me c'è sempre mamma, quindi ci abbracciamo, stiamo in silenzio per 5 secondi, oppure mi bacio le alite tatuate che sono nel collo, come simbolo di protezione. Ho il lineeio delle pietre nelle tasche, prima di cantare, bacio quelle pietre. Quindi hai tutto una serie di riti. Poi chi mi conosce bene, io sono molto, molto pignolo, sono molto, sai, sono quello un pochino più strano. Chi mi conosce bene lo sa comunque come vivo queste cose. Non sei strano, sei un artista. Esatto, ho quel lato lì. E molti sanno, comunque sia prima di anche salire sul palco, conta che per fare questo evento ci stiamo organizzando da settembre, perché poi io sono uno che lavora molto in anticipo, e molto in silenzio, sono molto schivo. Non faccio una cosa e sto subito a dirla, sono molto più silenzioso io. Andres, cosa ne pensi dei talent scout? So che hai partecipato nella tua vita. Che visione hai di questo mondo? Allora, io diciamo proprio apertamente che sono contro, perché allora il talent è una cosa che qualunque ragazzo che prova a cantare o a fare qualsiasi altro mestiere, per il talent ci passerà prima o poi. E io penso che nei miei 21 anni è una cosa che comunque sia dovevo fare, perché più vai avanti, più sei consapevole che tutti gli errori che hai fatto ti portano ad avere l'obiettivo ancora più grande. Premesso che io quando feci il talent, io fece Amici, X Factor, era molto acerbo, quindi anche le canzoni non erano canzoni che puoi presentare in un disco. Comunque sia sono strade in cui tu devi andare preparato, con le spalle coperte, non so se mi intendo. Con le spalle coperte, io comunque sia ero un ragazzino che aveva solo voglia di trasmettere delle emozioni, ma che ancora non riuscivano ad uscire del tutto queste emozioni. Sono strade che purtroppo, come tutte le cose, in tutti i mondi c'è un po' di sporcizia dietro, c'è molto ambiente sporco. Bisogna però avere le spalle forti. Io, così come nei social, sono molto distante anche da quelle cose. Uno le fa perché le deve fare. Lo fai perché lo devi fare, perché io se no sono uno o più per andare in strada e cantare in mezzo alla gente. Non sono per queste cose. I talent sì, li fai, ti danno comunque sia formazione, perché impari a stare davanti a una giuria, davanti a gente che non gli importa di chi sei, è semplicemente schietta. Purtroppo molte volte non è sincera, perché magari tu sei l'ultimo arrivato e loro hanno già le loro pedine da spostare, quindi tu sei scartato e così è stato. Però sono cose che ti formano, che fanno il tuo bagaglio di esperienza. Nella tua vita c'è anche un'esperienza a Sanremo? C'è anche a Sanremo, c'è anche a Sanremo. C'è stata un'esperienza bellissima, tra l'altro, perché siamo stati selezionati, io con l'etichetta mia, siamo stati selezionati e mi sono presentato quest'anno, tra l'altro, a Sanremo Giovani. Con un singolo che sarà? Con un singolo del disco, che sentiranno tutti quella sera al concerto, che tra l'altro, lo posso dire, è il titolo che dà nome al disco, Vita. Vita. Vita è la canzone con cui mi sono presentato a Sanremo, è una canzone molto introspettiva, molto orchestrale, perché io ho giocato molto con l'orchestra, anche la registrazione degli archi, sono tutti stati comunque sia dal vivo, quindi è stata un'esperienza bellissima. Dopo, come ho detto, le cose non sempre vanno, ma io anche qui credo che ci sia un motivo, se una cosa non va, è perché tu ancora ti devi preparare a ricevere una cosa più grande. E anche questa è tutta formazione, perché le selezioni le fanno in tutti i mestieri. Se vuoi andare a lavorare in una fabbrica, fai una selezione, fai il colloquio. Se vuoi andare a Sanremo, fai questo colloquio, tu presenti la tua arte. E dopo, anche lì, le cose non si sanno mai come girano, però l'importante è farlo. E tu ci presenterai il tuo disco, insieme a questa collaborazione, con il tuo amico e fonico DJ Massimo Bartolini. Massimo Bartolini, grandissimo Massimo, che saluto tra l'altro, perché io gli voglio un bene dell'anima. Siamo diventati subito molto amici, perché adesso lo possiamo dire, lui ha partecipato anche al video di vita, però non dico nient'altro, poi vedranno tutti i telespettatori, vedranno tutto. Perché io sono una persona che nel mio cammino mi sono sempre detto voglio circondarmi di persone vere, di persone sincere, di persone umili, di persone che non vogliono strafare, ma persone che hanno voglia di creare. Massimo è una persona totalmente trasparente, un ragazzo ancora dentro, anche se ha molti più anni di me, è veramente un giovanotto dentro, e forse ha più voglia di me di mettere in grande le cose che facciamo. Quindi abbiamo fatto qualche serata insieme acustico e da lì io l'ho chiamato, lo chiamai a settembre, quindi qualche mese fa, e gli dissi guarda, noi dobbiamo fare un concerto, vero, perché deve uscire il disco, è il primo disco della mia vita e dobbiamo fare una cosa grossa. Quindi registrazioni tutte live? Registrazioni tutte live, sì, tutto live. Sarà proprio un vero e proprio concerto. abbiamo creato con i ragazzi del Naive Studio tutte le colonne sonore. Io la vedo così. Negli spettacoli c'è ancora qualcuno che ha voglia di andare ad emozionarsi. E se tu vieni quella sera, ti emozioni, tu sei lì per emozionarti, non sei lì per vedere una persona che fa canzoni, che ti fanno ballare. Tu no, tu sei lì per emozionarti, per ritrovare un po' te stesso, quel discorso che facevo prima. Perché comunque parlerò molto di me stesso, anche sul palco ci sarà tutta la coreografia, vengono montati tutti gli effetti speciali, quindi ti porto un po' nel mio mondo. Ecco, io ho vissuto questo per questi 21 anni. Io lo vivo così nella mia vita. Ti faccio capire questo. È anche un modo per fare, sentire il disco, perché molte persone giustamente non mi conoscono. E magari chi non mi conosce non ha quella premura, quella voglia di dire ma sì dai, andiamola a sentire. E io invece voglio fare il contrario, una cosa che attualmente non si fa, perché lavorano tutti con i social, e quando mi è stato proposto di promuovere il disco solamente sui social, io ho rifiutato, perché volevo proporre una cosa... Questa è una mostra di controintendenza, quello che stai dicendo, perché oggi se non sei sui social, non sei nessuno. Esattamente. Ma con questa tua dichiarazione, affermi che si può essere tutto se stesso, anche fuori da quel mondo. Sì, perché io sono molto contro queste cose, perché è tutto molto passeggero. Io voglio fare una cosa che rimanga, ma non che rimanga per farmi soprattutto notare, ma che rimanga a me stesso, perché io ho bisogno di gratificarmi per quello che ho fatto tutti questi anni, perché le batoste sono tantissime. Per un ragazzo che non ha le spalle così grosse, è difficile comunque sia riprendere il passo. E quando appunto mi hanno proposto di promuovere solamente sui social, io ho rifiutato tutte le offerte che mi hanno proposto, e ho detto facciamo un concerto, in modo tale che chi non mi conosce, mi conosce quella sera, perché farò trapelare tutto quello che sono io comunque. E conoscendomi poi ascolti il disco con un'altra versione, secondo me. Certamente. Perché mi vedi sotto un'altra lente, diciamo, ecco. E allora è più di me. Un disco pieno di sperimentazioni, sia musicali, sia vocali. Ricordiamo chi vorrà venire a sentirti, a conoscerti sul palco, il 15 febbraio alle ore 21. Per l'acquisto dei biglietti, Andres? Allora, per l'acquisto dei biglietti, non so se si vede qui nel manifesto, comunque sia c'è un numero di telefono, che è una segreteria proprio fatta apposta, un numero telefonico appunto, che è un ragazzo che si occupa delle prenotazioni, che per qualsiasi domanda, informazione, si può rivolgere a quel numero, e lui risponderà a tutte le domande. I biglietti sono acquistabili online, su Live Ticket, altrimenti ci sono dei punti vendita, che sono il tandem a Fano, il paso a Sant'Orso e il punto ufficio nella zona, diciamo, di San Lazzaro. Ci sarà occasione e possibilità anche di acquistare il tuo CD direttamente? Ci sarà, esattamente. Questa serata? Abbiamo preparato delle copie, ovviamente limitate, della versione fisica, che adesso non so se si può far inquadrare, non so se si vede. Ecco qui ce l'abbiamo, anche qui ce l'abbiamo, una copia. E sarà possibile appunto, sì, acquistarlo all'interno del Politeama e poi niente, ascoltarlo direttamente dal vivo, per poi magari ascoltarselo in macchina, ascoltarselo insomma, perché ci sono canzoni che ascolti volentieri in macchina quando sei allegro, ci sono canzoni molto molto più profonde. E allora, visto che mi hai incuriosito tantissimo e ti ho qui a portata a disposizione, questo disco me lo autografi e io me lo ascolterai in macchina appena finiremo l'altro fondimento. Molto volentieri, molto molto volentieri. Allora, invitiamo tutti, facciamo un annuncio a raggiungerti il 15 febbraio al Politeama. Esattamente. Vai Andres, per chi ci sta seguendo. Dove guardo? Allora, venite tutti quanti il 15 febbraio del 2024 alle ore 21 al Politeama di Fano e torniamo ad emozionarci tutti e torniamo tutti un po' bambini, che adesso serve, in questo periodo serve tantissimo, serve. Grazie Andres, grazie per le emozioni che ci hai lasciato in queste parole. Sicuramente ci aspetteremo un concerto pieno di emozioni. Io ringrazio tutti per averci seguito, ringrazio per la regia Roberto Magrelli e buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Nel mio mondo eravamo solo noi e buon proseguimento 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 e buon proseguimento